continuo la lettura del romanzo storico Eudeu 1789 un ragazzo di Francia si tratta del secondo brano e brevemente riassumendo siamo nella Francia del 1789 poco dopo la presa della bastiglia Eudeu è un giovane aristocratico che durante una battuta di caccia attraversa a cavallo insieme ai suoi compagni i campi di grano danneggiandone il raccolto i contadini lo inseguono armati ed Eudeu è costretto a rifugiarsi in una taverna e qui c'è Ettore l'oste e Ettore lo protegge e nella notte lo accompagna nella fuga il buio venne con il grido della civetta e di lì a un po' cominciarono a cantare gli usignoli nel silenzio della foresta andiamo ora nella stalla brillava la fioca fiammella ad una candela Ettore indicò uno dei due cavalli sellati e ordinò sali su quello Eudeu obbedì Ettore prese da un sacco una lunga pistola e la sistemò alla cintura poi si issò ad agio in sella all'altro cavallo e si chinò di lato a spegnere con un pollice e l'indice la candela restami appresso mormorò Ettore di qui sussurrò e spinse il cavallo fuori dalla strada passarono tra fitti cespugli e furono in una radura la luce della luna colpiva bianchi ippocastani e sfilarono ad agio sotto di essi Ettore teneva la testa rivolta all'indietro alla strada che si intravedeva appena tra gli alberi ed a sua volta si volse con un brivido vide qualcosa laggiù un'ombra è lui è lui questo grido mandò in frantumi il silenzio della notte adesso altre grida risposero e sulla strada apparvero nere ombre in corsa luccicare di metalli bali baleni di luce parole richiami via esclamò Ettore spronando Eudeu lo seguì per una breve tratto di bosco e vide nuovamente dinanzi a sé la strada i cavalli la raggiunsero con un salto via via gridò ancora Ettore rabbrividendo il ragazzo spronò con forza e il suo cavallo si tese nel galoppo Ettore si teneva basso la testa sul collo della sua bestia Eudeu fece altrettanto udì un secco fragore alle sue spalle e qualcosa passò sibilando rabbiosamente sulla sua testa atterrito capì che era una pallottola sparavano gli stavano sparando addosso i denti serrati ogni muscolo teso il ragazzo spronò ancora incitò gridando il cavallo galopparono veloci per qualche miglio attraverso boschi e prati colline e vallette alla fine giunti in una radura solcata da un roscello Ettore trasse le redini ferma gridò ferma tutto bene odè sì sì paura ma siamo al sicuro ormai sono lontani sì ripetè odè gli tremava la voce guardò Ettore che scendeva di sella scesa a sua volta ad un salto lascia il cavallo odè non se ne andranno lasciamoli mangiare erba buona vieni sediamo se tu vuoi bere invece quella di questo ruscello è acqua fresca e buona Ettore sedette ed è sedette accanto a lui e tacquero sudiva soltanto il mormorio del ruscello e ancora veniva dal bosco il richiamo degli usignoli ora nubi violette sfioravano la luna e per un po' i suoi raggi caddero obliqui e come nebbiosi Ettore parlò a Parigi si è riunita l'assemblea saprai che cos'è l'assemblea no? sai che cosa sono gli stati? si rispose pronto del clero la nobiltà e gli altri gli altri ah certo quelli che non contano nulla eh non ho detto che certo no ma lo pensano tutti il terzo stato non conta niente e però è quello che ha i quattrini e siccome i quattrini muovono il mondo il terzo stato crede di poter muovere il mondo e lo muoverà sta già muovendo la gente in città e i contadini in campagna non so seguitò Ettore di che cosa stiano parlando a Parigi ma è abbastanza chiaro da una parte c'è l'assemblea e dall'altra il re e i suoi i tuoi aggiunse con un appena percettibile sorriso e si faranno guerra guerra chiese Odee e chi contro chi tra francesi la rivoluzione come quella che hanno fatto in america sai cos'è l'america? si rispose cupamente Odee abbassando la testa Ettore lo guardò attentamente un po' poi aggiunse la Francia non è più quella di una volta una volta i nobili potevano galoppare nei campi di grano come avete fatto voi stamattina e non succedeva niente oggi se lo fanno gli massacrano i cavalli o gli sparano come hanno fatto a te siete impazziti tutti? domandò ad un tratto Ettore volgendo sul ragazzo uno sguardo scintillante che cosa va preso? proprio sul grano dovevate galoppare ma disse come spaventato Odee avevamo trovato il cervo suonava il corno e poi quei campi di grano non sono dei contadini sono di mio padre già ribatte Ettore ma chi li lavora sono i contadini e se il raccolto è buono hanno qualcosa in più se è scarso qualcosa in meno distruggere il grano è danneggiare quello di tuo padre ma anche quello dei contadini e la differenza è che tuo padre è ricco e i contadini sono poveri e se rubi a un povero non aspettarti che se ne stia zitto non aspettartelo più un ragazzo o opsettamento e non aspettare il grano e se giungiva il filosofo in questo modo ma anche una parte non aspettare il risotto non aspettare il risotto e il risotto